Salve a tutti ragazzi, sono Thomas Corso del Mood di questo nuovo video di RealTournament 4 Siamo finalmente tornati e oggi andremo a fare una partita contro l'intelligenza artificiale Quindi contro il computer per vedere un po' come se la cava della nostra mira Dopo da un sacco di tempi che non giochiamo in FPSR, no, qual è RealTournament 4 Quindi andremo a fare una sfida, questa qua, di quella già completata Proviamo a fare un deathmatch in Underland, in difficoltà facile Solo per vedere un po' come se la cava la nostra mira Quindi come se la cava la nostra mira rispetto a diversare un movimento più o meno movimento Perché ovviamente non si muovono tantissimo E vedremo un po' che punteggio riusciremo a fare Quindi passiamo subito 3, 2, 1 Ok, 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 ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti